Come si trattano i pazienti con leucemia mieloide cronica che si trovano in uno stadio avanzato di malattia? Noi l'abbiamo chiesto a un esperto di questa patologia, il professor Giuseppe Saglio. L'abbiamo incontrato a Roma dove è in corso il convegno Current Challenges in Ematology, un meeting realizzato con il patrocinio della società italiana di ematologia e di So Italy, durante il quale esperti italiani e internazionali hanno fatto il punto sulle sfide ancora aperte e sulle ultime novità per il trattamento dei pazienti affetti da tumori ematologici. Professore sappiamo che negli ultimi anni sono stati fatti progressi incredibili per il trattamento della leucemia mieloide cronica e molti pazienti ormai hanno un'aspettativa di vita comparabile con quella di persone di parietà, però c'è comunque una percentuale di pazienti nei quali la malattia purtroppo progredisce e quindi diciamo in che percentuale questo avviene e siamo capaci di identificare questi pazienti in anticipo? È una domanda molto ovviamente molto molto interessante. Purtroppo sì, abbiamo ancora alcuni pazienti che muoiono di leucemia mieloide cronica. In un arco di 10 anni circa la metà dei pazienti che muoiono, un po' meno, forse il 30-40%, sono pazienti che muoiono per cause legate alla leucemia mieloide cronica, nonostante le terapie con gli inibitori delle tirosinchinasi, eccetera, abbiano portato dei risultati incredibili rispetto a quelli che erano in passato. E l'altro aspetto molto importante, riusciamo ad identificare questi pazienti sicuramente da un punto di vista clinico, infatti molti di questi pazienti già appaiano con alcune caratteristiche che fanno rientrare in un alto rischio, secondo alcuni criteri e alcune classifiche che sono state, che sono utilizzate, tipo il leutos long term survival risk e altre categorie. Dal punto di vista molecolare sicuramente la presenza di alterazioni citogenetiche aggiuntive, oltre al cromosoma Philadelphia, è un altro elemento estremamente importante e dal punto di vista molecolare si sta ancora discutendo se la presenza di alcune alterazioni dei cosiddetti myeloid cancer genes, in particolare l'XLX1 e altri geni che sono mutati anche in altre neoplasie ematologiche, possono contribuire a dare un significato prognostico negativo a questi pazienti. Ecco, molto identificati questi pazienti, è possibile mettere in campo delle strategie di prevenzione, diciamo di evoluzione della malattia verso una forma avanzata? Direi che questi pazienti sicuramente devono essere trattati con i più potenti inibitori di rettilosinchinasi che noi abbiamo a nostra disposizione, perlomeno quelli di seconda generazione. Nel caso di resistenza si può arrivare a rettilosinchinasi inibitori di terza generazione, come il ponatinib e ancora da valutare in questi settori, però estremamente promettente, appare anche la scimimib che non è ancora registrato, ma che alcuni studi indicano come potenzialmente un farmaco valido. Lei professore ci ha appena accennato a quello che è un grosso problema, cioè la resistenza che può insorgere appunto agli inibitori delle rettilosinchinasi, che sono un caposaldo della terapia della lecimib minoride cronica. Ma diciamo, oltre a questi due farmaci che ci ha appena citato, come si può superare il problema delle resistenze? Il problema della resistenza probabilmente non si riesce esclusivamente a superare soltanto utilizzando o inibendo nella maniera il più completa possibile l'attività kinastica di BCR-Eberson, ma se ci sono alterazioni di altri geni, cosiddetti cancer geni mieloidi, noi effettivamente dovremmo mettere in piedi delle terapie combinate, utilizzando l'associazione tra i inibitori delle rettilosinchinasi e altri farmaci, anche della categoria dei chemioterapici, ma non solo, si può pensare anche nel caso per esempio di una forma avanzata linfoide, di una crisi plastica linfoide, di utilizzare anticorpi monoclonali che sono in grado di indurre una risposta immunitaria nei confronti del clone leucemico in aggiunta all'inibizione della tirosinchinasi inibitor. Quindi ci sono molte, diciamo così, possibilità di terapie di combinazione, di che hai da sole, di che hai più chemioterapia, di che hai più chemioterapia, più immunoterapia, per giungere poi forse alla soluzione finale che può essere rappresentata quella del trapianto di midollo allogenico. E appunto lei, diciamo, in questi pazienti che avete individuato, che tendono a evolvere per una forma avanzata di malattia, ci ha detto che è importante impostare fin dall'inizio la corretta sequenza terapeutica. Assolutamente sì. E le persone, naturalmente, ci sono molti altri aspetti, oltre alla possibilità dell'evoluzione della malattia, anche le condizioni del paziente che devono essere valutate, quindi l'età del paziente, la presenza di comorbidità che possono rendere difficili il ricorso a terapie particolarmente impegnative o più o meno tossiche, effettivamente è uno degli elementi da tenere in considerazione. Una persona giovane, perfettamente in salute, con solo il problema di una leucemia e minorite croniche non è stato avanzato, la soluzione è probabilmente del trapianto, una soluzione che va presa in grande, grande considerazione.